un saluto a tutti e benvenuti alla puntata numero del gioco del club della scommessa con questo video potete partecipare gratuitamente al gioco come semplice adesso elencherò 5 partite del campionato italiano di serie a di questo fine settimana queste sono le partite che ho selezionato adesso per partecipare al gioco con un commento sotto questo video dovrai pronosticare con un segno 1 x 2 il risultato di queste cinque partite rispettando la sequenza dalla prima alla quinta partita scrivendo il tuo pronostico in questo modo risultato prima partita spazio risultato seconda partita spazio e così via alle altre partite rimanenti il primo partecipante che indovinerà il risultato delle partite vincerà il simpatico gadget che il club della scommessa ha messo in palio si tratta di un portachiavi multifunzione con torcia e gettone che puoi inserire nel carrello della spesa naturalmente con su impresso il logo del club della scommessa dunque iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto metti un mi piace al video e condividilo con gli amici ma la cosa più importante con un commento formula il tuo pronostico e compiti con gli altri iscritti al canale per vincere il premio offerto dal club della scommessa dunque vi auguro un buon divertimento e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.